e signore e signori buonasera e benvenuti nel city dream di roma dove il team colonese promotion è lieta di presentarvi la terza edizione di fighting spirit muay thai un evento che vedrà dieci incontri dieci autentiche battaglie che comprenderanno l'incontro internazionale a squadre tra le selezioni di italia e olanda un prestige fight internazionale e quattro match selezionati dal team colonese per garantire spettacolo ed offrirvi il vero spirito guerriero del muay thai e del k1 è la prima ripresa grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.